La testimonianza di Italino Saffiodi è veramente importante perché dimostra che si può fare. Il libro che è stato presentato stasera è un libro che parla di libertà, è un libro che parla di verità. È importante capire come funzionano le cose nella nostra regione, nel nostro paese, per poter trovare i correttivi adatti per poter costruire la speranza. A Soveria Mannelli, durante le manifestazioni estive, cerchiamo sempre di individuare le testimonianze fondamentali e importanti per poter comprendere il presente e quindi poter costruire il futuro. L'Andrangheta è il problema dei problemi, la causa delle cause del sottosviluppo e l'Andrangheta mina l'economia e la democrazia. Ci bisogno di testimonianze importanti, significative, come quelle di Italino Saffiodi, che dimostrano che non ci si gira dall'altra parte e che un futuro diverso è possibile. Questo è importante perché dimostra che il cambiamento è in atto. Grazie. 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 Grazie.